Un saluto ai beffati di Instagram, qui siamo in della neve, dallo Shigebeat, che è quello che faccio il video, e sto facendo nella neve letteralmente, però sì, ok. Ho fatto un saluto ai ragazzi delle neve, non è live, è offline, guardate che bello, questa è la Germania e la neve. Guardate, cantate, qui guardate, tutto il panettone sulla neve, tutti i contesti. Grazie.